Lo scopo di questa iniziativa era quello di aiutare i bambini a superare la fobia del lago e aiutarli a vivere con maggior sicurezza e maggior fiducia le procedure mediche future. Abbiamo visto i bambini giocare con i cani, quindi instaurare un rapporto di fiducia con il cane, dopodiché sono stati accompagnati nell'ambulatorio prelievi da ametista, un bellissimo lagotto emiliano, che li ha aiutati a diminuire quello che era lo stress del prelievo. I bambini avevano paura, però sono stati felici perché avevano di fianco ametista che li ha aiutati e loro l'hanno accarezzata per tutto il tempo, lei li guardava con questi occhioni meravigliosi. Tutto è andato bene, quindi grazie a questo progetto del poliambulatorio città di Collecchio in collaborazione con l'associazione Impronte nell'Anima. Crediamo fermamente al fatto che i bambini, dal punto di vista psicologico, soprattutto i bambini, si tranquillizzino tantissimo a vedere quanto un cagnolino accetta un discorso nuovo, che anche per lui, anche per il bambino è nuovo, ci hanno raccontato, che anche per loro è la prima volta. E questo progetto pilota, secondo noi, dovrebbe accompagnare proprio i bambini in questa fase di serenità all'approccio del lago. Consiglio vivamente questa esperienza perché mio figlio, quando è entrato, era spaventato, invece adesso è più rilassato, tranquillo e lo consiglio vivamente. Grazie a tutti.